Potevo mettere il TP, lo ammetto Potevo mettere il TP Tanto se Rengar E ecco mi saltano addosso e esplodo in tutti i casi Idem se mi vede Brand Per sbaglio Però forse sai All'inizio puoi effettivamente salvarti Constando che non c'è nemmeno l'Ignite Quindi magari quel barrier mi può salvare Da una bomba che mi tira in testa Ecco Non lo so se voglio già iniziare con la tier Mi sa di no Secondo me non è necessario iniziare con la tier Tanto lo stacco abbastanza in fretta Mi starto con questo e la tier la compro Appena torno back Questo mi fa comodo perché mi dà 70 HP Il che vuol dire che se Cioè che posso tankare 70 danni in più Proprio letteralmente Vabbè Va bene così abbiamo preso un mana flow Abbiamo già 25 di mana in più E li ho anche spottati quindi Gli ho rotto un po' i cocomeri ecco Cosa vuol dire blood? Vuol dire sangue Cosa vuol dire blood? Ahmed risponde Prima kill Ahmed Non faccia disinformazione Ahmed Mi sforzo un altro tasto del load play Molto molto forte Allora ecco cosa vuole fare Ecco vuole pusharmi tutto il tempo Quindi pusheremo anche noi Oltretutto sfrutteremo la passata di Miss Fortune Che quando cambia target fa un danno aggiuntivo Il primo attacco fa un danno aggiuntivo E farmeremo meglio grazie a questo Nonostante siamo a P Riusciremo comunque a farmare meglio di un mage normale Noi tiriamo l'E In modo tale da hittare sia lui Per il mana flow e la comet Sia la wave per pushare Perché ecco vuole pushare Noi non lo facciamo pushare Perché se noi pushiamo Lo mettiamo dietro i minion E si becca e puff Te le cu Capito? Tieni ecco Tieni tieni Guarda lì Capito? Grazie al fatto che abbiamo i biscotti Che ci danno tanto su stand di mana Noi possiamo giocare più aggressivi Altrimenti dovremmo stare lì A fare un po' di mana economy Capito? Lui sta dietro i minion E ti becchi ste Q E ti becchi ste Q Visto? Così si fa Tieni ecco No Ma come è possibile? Va bene Ci ha missati Va benissimo così Va benissimo così Amici Buono Guardate come gliel'ho inserita Come gliel'ho inserita Fratelli Voglio un po' di spawn Di feric gg in chat Che era tanto che non vedo quella emote Forza Guardate dietro il minion Preso Preso E a casa E tornerà col TP Adesso Dimmi qua sotto torre E dai vai sotto torre Oddio Potrei andarci di più Eh lo ammetto Eh non me la son giocata benissimo qua Questo è il vantaggio E avere il TP Contro me che invece non ce l'ho Va bene lo stesso Dai è andata comunque un po' sotto torre Tanto non penso la frizzy Prendiamo la goccia Prendiamo questo Prendiamo questo E andiamo in lane Immediatamente Ok Addio Twitch Cosa È morto di nuovo No dai Per favore Vedo soltanto Gatto farfuglio Che scrive È l'unico che vedo che scrive Anche Fabruz ho visto Dietro al minion Bleh Dietro al minion No cazzo Non la passiva Vabbè Oh No eh Eh no porca di quella puttana Ok Forse me la son giocata malissimo Mi son giocato malissimo il barrier Purtroppo mi ricordavo manco che cazzo di summonerspelle avevo Mannaggia a me Me la son giocata male Potevo salvarmi lì Se l'avessi usato bene il barrier Che tragedia amici Che tragedia Non fate danno Ma perché non fan danno Che cazzo Vabbè Ragazzi non so che è successo Se Twitch ha ancora problemi Ma boh ultimamente Sta avendo un sacco di problemi Vabbè Allora qua cosa dobbiamo fare Pushare a spettare il 6 Oddio È morto di infarto quel carretto lì Porca puttana Guarda lì come l'ho preso C'è Rengar sì Bobby con chi cazzo pensi Che vera che fare Muori Beccatela tutta in faccia Quest'outplay Sì sì Pingalo pure Ecco È già È lì che lo pinga Lo so Beccati sta qui in testa Beccati sta in testa Betta il mio pisello in testa E via Era il tasto dell'outplay Eccolo lì Mamma come funziona bene Il tasto dell'outplay Se solo la chat potesse scrivere Dei messaggi Mannaggia Beccati sta qui Beccati la Q Tutta in bocca Cosa vuoi? Sì Missa È vivo Eccolo qua Ma porca puttana Non c'era Non c'era la passiva Vabbè Ok Pingo che manca No Back Eccolo lì Non mi ingaggio Perché è pieno di mino Non avrebbe senso Per lui Allora Andiamo di liandri Sì per forza Ci facciamo liandri E poi ci facciamo L'archangel staff Liandri Archangel staff E poi ci facciamo Cosmic drive Demonic embrace Rabadon E tanti saluti Oddio Rabadon Non lo so Perché forse Ho bisogno di un oggetto Un po' difensivo Sarebbe bello Ma la vedo due Era il Rabadon Ve lo dico chiaramente Io qua gliela Tengo pushata Perché Ai 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 Potevo fargli Un tasto Dell'outplay lì Però Qua potrebbe tornare Rengar A rimediare La cazzata di prima Ecco qua Stiamo indietro Non sappiamo dove è Rengar Mettiamo magari Una bella guarda qua Ok Vedete Se continuo a strappusciarlo Così lui fa fatica Ad andare back E questo è il mio obiettivo Mamma mia Preciso Il tasto Dell'outplay Grazie Grazie Bard Sei stato utilissimo Meno male che c'eri tu Bard Mamma mia Il tasto Dell'outplay Signori Ma chi vi porta Un tasto Dell'outplay Così potente Scusate Chi Nessuno Ve lo porta Un tasto Dell'outplay Così potente Ve lo dico io Outplay Creato meccanicamente Eh qua Mi ha outplayato lui Con il suo di tasto Dell'outplay Ok Ok Boom Bobby Beh che ti sta in testa Mamma mia Guarda lì Che opprimente Che è Miss Fortune Quanto opprimente Sto champion Guardate lì Non ci si muove Non ci si muove Bobby Dove sei Dove sei La vuoi Lei in testa Eh sì Non vale così però Ma allora Non ci siamo capiti Non ci siamo capiti Allora Non hai capito Non ti è chiaro Il concetto Non puoi Far queste cose Non puoi Ti ho detto Tasto dell'outplay Di nuovo Tasto dell'outplay Di nuovo E via 12 minuti Che non è trasformato Ma non sta facendo Un cazzo Quindi Almeno Ecco Se fosse Rengar Avrebbe già la trasformazione È morto di continuo Ma almeno ha combattuto Lui no Lui muore Almeno abbiamo fatto Un drake Dai E l'hanno fatto Tutto da soli Quindi non mi posso Lamentare Da questo punto di vista Bobby Bobby Guarda lì Che outplay Che gli sto facendo Va benissimo Ecco Tu rimani lì dentro E io ti rompo I coglioni Ok Bobby Tasto dell'outplay Outplay In testa Mega Ipergalattico Supersonico Non hai capito Non hai capito Allora Non ci siamo Capiti Stai attento Che la torre Mi focussa qua E allora Puffete Guarda come ha Rischiato C'è un'arachia No è semplicemente Che non va Non va Twitch A un sacco di gente C'è Sono entrambi In Kine Ma cosa sto vedendo Ma Kine Oltre a morire Che cazzo Ha fatto Vorrei sapere Mamma mia Come sei beccato Stai Kine sta solo Morendo By the way Guardate Che fastidio C'ho Praticamente Mana infinito Ormai Guarda lì Guarda lì Guarda lì Non c'è proprio Non può respirare Nemmeno Guardatelo Guardatelo Com'è catafratto Com'è annichilito Impotente Come Berlusconi Con le ventenni Uguale Non può far nulla Non può far nulla Può osservare Da lontano Al massimo Madonna Scampia Mi ha preso Questa Ma che Ma è sì Un po' più di gente Non lo so Ma che Aram time Tasto del fucking Outplay Brand Eh ringrazio Che c'è il flash Che è il tasto Ancora più Dell'outplay Già sapeva Già sapeva Già sapeva Partito Neal Attenzione Ragazzi potete farvi i cazzi vostri E lasciarmi nella mia mid lane per favore Dai vi prego Vi prego No No niente Cos'è quest'aram Darius Non ho necessità Siamo in rank Siamo in rank O siamo in aram Chiedo Sembra più la seconda Non lo so Loi non ha la minima idea Di cosa deve fare In questa partita Proprio si sta chiedendo Che cazzo stia succedendo Ma a sto punto Rimango Mi faccio tutta Tutta l'archangel Stuff Cos'è Lenswap Fraudolento Questo Tieni Non si va back Non si va back Al tasto della play Ce l'ho ancora Potrei quasi utilizzarlo Per pushare sta wave 73 secondi Ma vaffangulo Andiamo back Che quello more Di infarto Di nuovo Va bene Lo stesso Inendo alla pozza Veloci Veloci Prendo il trinket blue Alcuni chiedono Dove si fa il trinket blue Il trinket blue Ragazzi Ve lo fate Sui champion Che non vogliono Che non vogliono Che creare cespuglie Semplice Semplice Io non posso andare A vicino a un cespuglio Per guardare Se è Darius Se dentro c'è Rengar Può andare a guardare Se io sono misfortune Dentro c'è Rengar Un Rengar normale Non questo abominio Mi one shotta Quindi sui champion Con cui non volete F-ceccare Vi fate il trinket blue Molto semplice Ripeto Questo qua È un caso a parte Quindi Lasciamo stare Infatti Se ci fate caso I trinket blue Si fanno sempre I mage E gli ad carry Guarda Ha dovuto Flashare Eh vabbè Non mi sono potuto Muovere Mannaggia Madonna Nove kill C'hanno questi due Guarda Che tragedia Va bene Lo stesso Va bene Lo stesso Sapete che se mi faccio Le scarpe Non ho bisogno Del cosmic drive Praticamente Le scarpe Ability haste E potrei quasi Quasi farmele Vai Me le faccio Perché ho 39% Non ho bisogno Del cosmic drive Praticamente Sarebbe comunque Ok Perché con la mesa Hai moving speed Però Non è male Buildato così E poi questa Mi dà altre ability haste Con i prossimi oggetti Quindi non è Non è niente male Buildato così Meno male Ha imbaffato L'ability haste Delle scarpe Tanta tanta roba Mamma che tragedia Ma com'è Un stop Stava 1-3 Si sono curati tutti Madonna Tutti si sono curati Tutti Quello muore Bruciato nel dps Ragazzi Ragazzi Cosa sta succedendo Eh no Ormai mi ha rotto il cazzo Ormai muori Vabbè Oh Delettamente Sto giocando Da solo Nessuno ci va È mezz'ora Che sta picchiando Sta cazzo di torre Oh Mezz'ora Che sta picchiando Sta cazzo di torre Incredibile Lo so che da muy speed Il cosmic drive È forte Non ho detto di no Però ci sono oggetti Che potrebbero essere Più forti Visto come stando Il game Forse una zonia Potrebbe essere Una buona idea Per farvi proprio Un esempio Mamma mia Mamma mia Mi viene da piangere C'è quel ranger E due livelli So Madonna Quanti miss Han fatto Oddio Perché Darius Ma dove va Perché ha divappato Il farming top lane Perché Vabbè 800 viewers Mandato a puttane Twitch Stasera Ma che è successo Sono spariti 500 viewers In mezzo secondo Bravo Entraci dentro Complimenti Prenditela tutta In faccia La doppia V di brand Oddio Ma se ho 1.500 Io vedo 800 persone Io ho paura Non so dove Stanno questi Se ci andiamo tutti E' tanta roba Qua Oh oh Non c'ho paura Bobby Madonna sto blue Vabbè Già che ci sono Me lo prendo volentieri E no E me lo deve rubare Jin Jin Fottuto Jin Merdoso Prendetelo Disintegratelo Oh le Boom Questo 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 Qua Dai 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 Please Perché Perché non Viene il jungler Venite Dio Santissimo 1.500 Bene Ragazzi Io ne vedo 890 Non chiedetemi Perché Si è buggata La dashboard Via Che giocatore Che giocatore Incredibile Va bene 7.500 Scrivete in due Quindi pensate Quanto sta andando bene Twitch Pensate voi Dove sono gli altri 1498 Vi do un consiglio Ragazzi Se non riuscite A scrivere In chat Usate Donazioni Zimuth Guarda Non credo È fisso Da un bel po' Così Quando non va Non va Non c'è nulla A dire Magari Non siamo Né 1500 Né 800 Non muoio Non muoio Se non avrei usato Lo stopwatch Ovviamente Non andrei back Ragazzi Che ne dite Guardate Scommetto dopo Vado su Twitch Da un detector E guarda a caso Dirà che Un sacco di gente Ha problemi Mamma Che danni Guarda lì Il lobby è andata Lì Switch Down detector Andate Stando back Qua dentro No Boh Lei passeggia Quorsi ha preferenziali Io do fastidio Io do fastidio Fino alla fine Guardate qua Guardate qua E piu 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 Guardate Che fastidio Non ho fatto Non mi affattirà Affatto Ah forse mi ha stunnato Tutto grazie All'ex drink Era incredibile Tutto grazie a quello Ma il fastidio Gli ho dato lo stesso Visto Visto Ecco qua Easy Comunque guardate Ecco 37.000 report Su Twitch In questo momento Pensate a quanta gente Sta andando male Dov'è il trinket blu? Qua La dirette 50 Cioè ci sono mille cose in più Semplicemente La versione mobile La versione mobile Cioè castrata di natura Non so che vi è crashato Twitch Ragazzi Lo so Sta andando un sacco di problemi Non so Ma In sta settimana Da troppi problemi Twitch Sta settimana Da troppi problemi Twitch È dal primo gennaio Che da problemi Se non arrivasse qualcuno Non gli faccio il tasto Da play in faccia Però 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 Non arriva nessuno C'è la Tristana lì Vabbè Mi piace C'è la zona intera Oh Calma Calma Come vi ho insegnato Ragazzi Molto bravi Col primo account Questo è il primo account Uno è bronzo uno E l'altro è bronzo uno Poi ho uno silver uno Ne ho un altro In gold Due o tre E un altro Plat quattro Non so qual è il primo Decidilo tu Oh Il tasto del fucking outplay Guarda come flasha Maddio santissimo Puoi morire Rengar Per favore Mamma che danni Guarda lì come brucia Brucia in tutti i sensi Mi direte Fieri che vabbè Brand è il cazzo che brucia Eh ma io lo faccio bruciare di più Non è abituato a bruciare così tanto Fidatevi Tuck Din 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 Guarda come brucia 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 Brand Ha Vorreste Tieni bre Salta su quello Rengar Tt tu Tt tu Tt tu Tu Tutti Tt tu Tutti Tt tu Tutti Maffa mia Che outplay meccanico Questa Miss Fortune Guardate c'è Miss Fortune Senza vita Ragazzi Non è eccitante Miss Fortune Senza vita Già lo è di solito Figuratevi senza vita Dai Guardate Guarda Brand Brand Guarda Miss Fortune Senza vita Quanto è eccitante Brand Scherzavo Brand Tatatatatatatatatatatatata Il tasto Non si fa Risparmio Con l'outplay O se outplaya O non lo si fa Non ce l'avere di mezzo Quindi Pigiatelo quel tasto Tt tu Tutti 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 Ma dovevo andare Ti guarderò bruciare Brucia davanti ai miei occhi Eeeh Volevi Mamma mia Che outplay si Ma mi è esploso di fianco Darius Ma mi vuoi ammazzare Sei un terrorista No Mi hai ucciso Danni collaterali si chiamano questi Buono Che bello fare le cose divertenti e nessuno scrive in chat Perché non va Twitch Come sempre Twitch ci deludi Male Guardate qua In due ore ci sono Ci sono più di 60.000 report di Twitch Se in due ore Magari in 15 minuti In 15 minuti Fantastico Beh Siamo pochi È colpa di Twitch Icomo Zambico C'è gente che mi dice Che non riesce nemmeno Proprio Cioè che è proprio Crash Ok Grazie.